Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Nonostante l'Italia non sia una delle zone più calde del pianeta, i vari record di temperature più alte mai raggiunti sono comunque elevatissimi. Il valore più alto mai registrato sulla nostra penisola è stato segnato a Foggia, proprio all'aeroporto di Amendola, dove nel 2007, esattamente il 25 di giugno, si sono raggiunti addirittura i 47 gradi. Non va comunque meglio in altre zone dell'Italia, con Catania che ha toccato i 46 gradi nel 1962, come anche Palermo che ha segnato fino a 45.2 gradi nel 1999. In Sardegna poi si sono raggiunti i 45 gradi nell'entroterra del Cagliaritano, toccati nel 2009. Temperature massime assolute oltre i 40 gradi anche su altre zone del centro-sud, come potete vedere dalla carta qui a fianco, Cosenza ha segnato 43.7 gradi, seguita da Firenze con 42.6 e Arezzo con 41.5. 40.5 gradi sono invece stati raggiunti a Roma, mentre Napoli si è fermata a 40 gradi. Poco sotto questa soglia invece le località settentrionali, le più calde risultano essere Bologna e Torino, entrambe con un record di 39.7 gradi, seguite da Milano con 39.3 e Bolzano con 39.1. Leggermente più fresca invece Trieste, anche grazie alla presenza del mare, dove le colonnine di Mercurio non hanno mai superato i 37.2 gradi. Vedremo nei prossimi giorni se questi record resisteranno, è infatti possibile che con questa intensa e duratura ondata di caldo che sta interessando tutta Italia, alcuni di questi valori possano essere battuti. Un saluto da parte del Centro Metti Italiano.